Sandra Gottelli dell'editrice missionaria italiana. Il tema di quest'anno del festival è quello della fiducia oltre la paura. Voi però da sempre avete avuto nella vostra collezione, nel vostro catalogo, dei testi che aiutano i propri lettori ad avere fiducia in un futuro diverso, in un futuro possibile. Assolutamente, confermo esattamente quello che ha detto perché Emi, che l'anno prossimo festeggerà i 50 anni di vita, ha sempre avuto nella sua filosofia editoriale l'idea di, oltre dei testi filosofici e teologici, anche di produrre dei libri che guardassero al futuro, sempre con ottimismo, sempre verso l'incontro, sempre verso la fiducia dell'altro, sempre nella possibilità che si possa fare qualcosa, non solo nei confronti degli altri, ma anche nei confronti della madre terra, eccetera. Noi siamo sempre stati, come dire, vicini alla chiesa in cammino. Ecco, come va il mercato editoriale negli ultimi tempi? È sempre più faticoso in salita? Ma guardi, dipende. Incredibile ma vero, durante il lockdown abbiamo avuto dei buoni risultati attraverso magari i webinar, attraverso i libri digitali, eccetera. E niente, nonostante che il nostro settore è un settore comunque di nicchia, noi ci siamo allargati, come dicevo prima, in tematiche che sono più nelle corde di tutti i giorni, che sono ormai nei telegiornali e pertanto facciamo la nostra parte.